Chi di voi mi segue da diversi mesi sa che a marzo di quest'anno ho giocato un torneo chiuso valido per la norma di maestro internazionale a Budapest in cui ho giocato particolarmente bene e sono riuscito ad ottenere il titolo di maestro. E circa un mesetto fa ho deciso di ripetere questa esperienza tornando a Budapest giocando un altro torneo chiuso valido per la norma di maestro internazionale. In pratica un torneo composto da 10 partecipanti con 9 partite quindi ogni giocatore va a giocare contro tutti gli altri giocatori e tra questi partecipanti devono esserci almeno 3 giocatori con il titolo di maestro internazionale oppure grande maestro. Devono essere presenti giocatori provenienti da tutto il mondo non so esattamente quanti paesi diversi ma penso almeno 3 o 4. E infine la medialo dei partecipanti deve superare una certa soglia che credo essere 2260 anche se non ne sono esattamente sicuro e alla fine del torneo se sei riuscito ad ottenere una performance superiore ai 2450 fai la norma. E per farvi capire in questo torneo per ottenere la norma avrei dovuto totalizzare 7 punti su 9 cosa particolarmente difficile da fare quindi sono arrivato a Budapest con l'intento non tanto di fare la norma ma di fare un ottimo torneo perché in questo torneo qua incontro comunque giocatori con un ottimo punteggio elo ed essendo il mio punteggio elo di partenza 2261 cercavo di avvicinarmi il più possibile al titolo di maestro fee ovvero 2300 punti elo. Devo dire che parto con il botto al primo turno gioco con il nero contro il primo del tabellone il maestro internazionale ungherese Orvat David che aveva un punteggio elo di 2337 e vediamo come si evolve questa partita il mio avversario gioca cavallo f3 io c5 pedone g3 ci sviluppiamo entrambi con l'alfiere in fianchetto ed entriamo in una sorta di inglese simmetrica sviluppiamo i cavalli gioco pedone d6 arrocco corto e qui scelgo di giocare questo centro pedonale con pedone i5. L'obiettivo era impostare una partita d'attacco piuttosto squilibrata e complessa dove anche il mio avversario che magari ha più esperienza di me può tranquillamente sbagliare quindi volevo crearmi le mie chance di vittoria anche perché non sono venuto a Budapest per fare il catenaccio contro i giocatori più forti e cercare di tenere. Insomma la spintina e5 è un po' provocatoria perché va ad indebolire la casa in d5 io non ho già più pedoni che potranno controllare questa casa e quindi il bianco in futuro potrebbe installare un cavallo in questo bellissimo avamposto. Il mio avversario gioca un piano tipico cavallo e1 in questa struttura pedonale spesso il cavallo del bianco vuole andare in e3 libera l'alfiere in g2 insomma il bianco va a stabilire un ottimo controllo sulla casa in d5. Io gioco alfiere e6 attacco il pedone in c4 quindi pedone d3 cavallo e7 e molto spesso il nero cerca di giocare a rocco corto magari spingere in f5 oppure spingere in d5 a seconda della situazione. Il mio avversario decide che è il momento di portare il cavallo in d5 prima che magari il nero possa liberarsi proprio spingendo in d5 di pedone a rocco corto e ora alfiere g5. Questa è una mossa molto interessante a livello strategico perché il bianco minaccia di dare il suo alfiere sul cavallo in e7 e questo per il nero potrebbe essere un problema perché la casa in d5 è una casa debole ma è una casella di colore chiaro. Quindi il nero ha tre difensori di questa casella l'alfiere e i due cavalli il bianco ha tre attaccanti quindi finché siamo tre contro tre il nero non ha grossi problemi tutte le volte che un pezzo bianco arriva in d5 posso ancora scambiarlo. Se però il bianco riesce ad eliminare uno dei miei difensori della casa in d5 dopo siamo un tre contro due e a quel punto il bianco riuscirà ad ottenere il controllo della casa in d5 perché l'alfiere in g7 non potrà farci assolutamente nulla. Quindi qui è importante bloccare lo scambio gioco quindi f6 l'alfiere torna indietro f6 non è un grosso problema anche se blocco momentaneamente l'alfiere in g7. Il nero spesso vuole giocare f5 quindi questo pedone verrà spinto liberando l'alfiere in g7 a questo punto gioco torre b8 spesso il nero cerca di spingere in b5 togliendo la torre da questa pericolosa diagonale. Il mio avversario gioca cavallo c2 quindi continua con la sua manovra di cavallo pedone b5 pedone b3 per sostenere il pedone in c4 e adesso h6. Questa è una mossa importante perché quando io vado a spingere in f5 non voglio che il bianco possa tornare a giocare alfiere g5 scambiando l'alfiere sul cavallo quindi prima gioco h6 il cavallo va in e3 a questo punto spingo in f5 nell'area ci sono già spinte in f4. Il mio avversario cattura in e7 per liberare la strada all'altro cavallo qui devo per forza mangiare di cavallo altrimenti c6 rimane in presa cavallo d5 scambio un ulteriore pezzo leggero dopo c per d5 ho risolto il mio problema strategico principale ovvero la debolezza in d5 che ora non è più una debolezza perché c'è finito un pedone. Adesso devo scegliere dove ritirare l'alfiere se in f7 oppure in d7 ed ero indeciso in partita ci sono due idee diverse dietro queste mosse ho optato per l'alfiere f7 l'idea di alfiere f7 è mantenere la pressione su d5 alfiere d7 è interessante perché mantengo l'alfiere su questa diagonale che ho sottolineato in blu e quindi dopo f4 magari con donna c8 la possibilità di andare a sfianchettare l'alfiere del bianco. Allo stesso tempo però il bianco può giocare b4 il bianco vuole trovare contro gioco sulla tridonna dato che il nero cercherà di giocare in questa fetta della scacchiera e dopo b per c5 d per c5 a me farebbe molto comodo avere l'alfiere in f7 per fare pressione su d5 ed è per questo che alla fine ho optato per l'alfiere f7 per andare ad indebolire il contro gioco del bianco sulla tridonna. Il mio avversario gioca a pedone 4 ma a questo punto posso sacrificare un pedone con f4 qualcuno potrebbe dire non è un vero e proprio sacrificio di pedone perché dopo e per f4 vado ad attaccare la torre in a1 però in realtà dopo alfiere per f4 non so se voglio catturare questa torre perché dopo donna per a1 le case scure iniziano ad essere piuttosto deboli. Sta arrivando alfiere h6 e il bianco potrebbe avere un po' di contro gioco probabilmente il modo migliore di giocare per il nero qua è catturare in d5 attaccando l'alfiere in f4 su qualcosa come alfiere per h6 vado a mangiare l'alfiere e anche se qua ho un pedone di meno posso giocare donna h4 e con gli alfieri contrari e le case scure così deboli il re del bianco può trovarsi in pericolo. In partita il mio avversario non ha giocato g per f4 è troppo rischiosa come mossa cerca invece di trovare contro gioco sul lato di donna e qui ero indeciso se chiudere per poi giocare totalmente sul lato di re oppure giocare la mossa che ho giocato in partita ovvero alfiere 8 per sfruttare questa cattura del bianco a mio favore per andare ad attaccare queste debolezze nella posizione bianca. Qui il mio avversario cattura in b5 e ora devo stare attento perché su alfiere per b5 torre per a7 e alfiere per d3 il bianco ha alfiere a5 vado semplicemente a perdere un pezzo quindi qui prima di ricatturare in b5 tanto quel pedone non scappa ho difeso il pedone in a7. Il mio avversario gioca alfiere a5 sposto la donna in f6 e un altro pregio di torre b7 è che la torre sulla settima può passare a giocare da un momento all'altro sul lato di re per attaccare il re in g1. A questo punto alfiere h3 l'alfiere probabilmente vuole trovare una collocazione in e6 però ok cattura in b5 recupero il pedone sacrificato alfiere 6 scacco re h8 e ora il mio re è sulle case scure quindi difficile per il bianco attaccarlo. Voglio giocare f3 a quel punto portando una donna in g2 potrebbero già esserci idee di matto ad esempio potrei andare a scambiare l'alfiere campo chiaro del bianco e dopo in un qualche modo infiltrarmi per dare matto in g2. Il mio avversario quindi impedisce f3 spingendo in f3 a sua volta ora però il pedone in g3 può essere un po' più vulnerabile quindi gioco h5 con l'idea che a volte posso catturare in g3 e poi giocare h4 aprendo la posizione del re in g1. Il mio avversario gioca g4 cerca di tenere il gioco chiuso ora non voglio ovviamente spingere in h4 perché dopo il mio attacco sul lato di re andrebbe a concludersi. Di conseguenza vado a giocare alfiere d7 mantengo l'attenzione soprattutto elimino il fastidioso alfiere in e6 cattura torre per d7 g per h5 e ora è importante non catturare qua. Perché a quel punto il re del bianco va in h1 per me è difficilissimo attaccarlo e adesso addirittura il re più esposto è il mio perché il pedone in h5 in futuro può diventare un target d'attacco. Il bianco riesce ad occupare la colonna g senza alcun tipo di problema. Quindi qui vado a giocare prima donna g5 scacco voglio mantenere la colonna h aperta per avere sempre idee con torre h7 e donna per h2 matto. Qua il mio avversario gioca b4 deve cercare contro gioco sul lato di donna catturo alfiere per b4 ora ho un pedone passato in a7 che in futuro potrebbe tornare utile e gioco alfiere f6. Voglio liberare la settima attraversa la torre e l'alfiere magari a volte diretto in g3 oppure può anche essere diretto in b6. Giustamente il mio avversario cerca contro gioco con torre a6 facendo pressione sul pedone in d6. Ora però gioco torre b8 l'alfiere sotto attacco e non può catturare in d6 perché dopo torre b2 il matto è imparabile. Quindi qui il mio avversario ritira l'alfiere impedendo anche torre b2 e qui gioco alfiere h4 voglio portare l'alfiere in g3. Donne 2 per andare a difendere preventivamente il pedone in h2. Torre b7 raddoppio le torri sulla colonna b queste mosse ovviamente devono essere supportate da del calcolo. L'alfiere per d6 continua a non essere possibile per torre b2 torre per d6 invece non funziona per alfiere 7. C'è questa infilata molto carina ok la torre può scappare difendendo l'alfiere in a3 ma dopo alfiere per a3 torre per a3 la mia torre entra in b2 con effetti decisivi. Quindi qui il mio avversario gioca alfiere c1 io gioco alfiere g3 per fare pressione su h2 re g1 torre h7 il bianco non può mangiare in g3 perché entrerei con la torre andrei a mangiare in e2 con scacco quindi otterrei una posizione vinta. Qui il mio avversario gioca torre a2 difende h2 abbiamo entrambi poco tempo inizio a realizzare che anche se ho tutti i pezzi che stanno attaccando non riesco mai a concretizzare. E qui quindi ritorno in h4 per evitare che a lungo termine quell'alfiere possa rimanere in presa tanto non posso aumentare la pressione su h2 arriva alfiere a3 torre b6 cerco di difendere il pedone in d6 torre c2 torre b7 e qui offro patta perché capisco che la situazione non dico che mi sta sfuggendo di mano però non riesco a concretizzare l'attacco e in un finale dove magari andiamo a cambiare tutte le torri anche se io ho un pedone in a7 passato ho tutti questi pedoni sulle case scure quindi questo alfiere può iniziare a diventare molto fastidioso mentre io con il mio alfiere non riesco mai ad andare a mangiare questi pedoni. Oltretutto qui il bianco potrebbe giocare qualcosa come torre c6 e anche se vado ad infiltrarmi in b1 il bianco può semplicemente tornare in c1 e ancora una volta non sono riuscito ad ottenere niente. Dopo torre b7 il mio avversario ha accettato l'offerta di patta e sono uscito un po' dalla sala di gioco non dico arrabbiato con me stesso però non capivo veramente cosa avessi sbagliato magari tornare indietro in h4 con l'alfiere non andava bene magari c'era un modo per concretizzare. Avevo gestito anche molto bene il tempo nel senso verso la fine lui aveva un minuto io otto minuti quindi avevo veramente giocato una partita molto buona sotto tutti i punti di vista sono riuscito a metterlo in difficoltà ero io quello che attaccava avevo più tempo però mancava la fase di concretizzazione quindi me ne sono andato nel tipo in un qualche modo si poteva vincere questa partita. Per mia sorpresa quando sono tornato a casa e ho analizzato la partita con il computer ho realizzato che in tutta questa partita nonostante io stessi pressando non ho mai avuto l'occasione concreta di vincere la partita sia io che il mio avversario abbiamo giocato una partita perfetta. Io ero alquanto sconvolto perché mi son detto cosa deve fare un povero Cristo per diventare maestro fide cioè non è che uno dice ok vuoi diventare grande maestro buona fortuna uno cerca di diventare maestro fide e giocando le partite perfette non riesce comunque a vincere però tutto sommato sono felice perché ho giocato un'ottima partita ero con il nero contro il più forte del tabellone Quindi un ottimo risultato e alla fine comunque ragionandoci su ho pensato ma allora qual è la differenza tra me che ho 2261 e un fortissimo grande maestro visto che ho giocato una partita perfetta e non sono riuscito a vincere. E penso che questa risposta debba esserci perché altrimenti anch'io avrei magari un punteggio molto più alto di quello che ho adesso e oltre magari alla costanza che magari uno dice ok un grande maestro telegioca così le partite tutte le volte ed effettivamente questo è un fattore che conta molto ma a parte questo credo visto che comunque il mio avversario ha giocato una partita perfetta di non aver giocato una partita abbastanza complessa da indurre il mio avversario all'errore. Cioè ci sono posizioni molto difficili dove per un giocatore è molto facile sbagliare cioè ad ogni mossa la posizione è talmente complessa che fare un errore è umano no? Mentre i computer magari in quelle posizioni tengono e non riesce a vincere lo stesso ma perché sono computer e riescono veramente a calcolare un'infinità di mosse senza soffrire di aspetti magari psicologici Perché c'è da dire che quando un computer valuta una posizione magari abbiamo a che fare con due posizioni entrambe valutate parità totale Beh per un umano magari una posizione è facile da gestire l'altra posizione magari sembra completamente persa ti arrivano sacrifici da tutte le parti è difficilissimo difendersi E per il computer sono due posizioni uguali entrambe parità totale lui riesce a pareggiartele tranquillamente in entrambi i casi Quindi probabilmente i grandi maestri riescono ad individuare queste posizioni riescono ad entrarci e poi riescono a dimostrare la loro forza perché le posizioni più complesse riescono poi a vincerle Perché semplicemente sono più forti però sì questa è solamente un'ipotesi per me io sinceramente non so quale sia la risposta alla domanda Come puoi migliorare come puoi diventare maestro fide e poi salire ulteriormente magari maestro internazionale grande maestro Non so quale sia questa risposta la sto cercando da diversi anni in realtà quindi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi Detto ciò se il video vi è piaciuto rimanete sintonizzati iscrivetevi al canale non perdetevi le prossime partite del torneo